Civil Week 2024, ci troviamo in compagnia di Angela e Daniele dell'Associazione La Fornape e a scoprire il mondo delle api. Associazione La Fornace, da dove deriva questo nome? Beh, La Fornape, qui abbiamo il presidente ovviamente, La Fornape nasce da una distorsione di una parola. Come potete vedere qui alle nostre spalle, in quest'area c'è la ciminiera di una ex fornace e uno dei nostri soci ha avuto la brillante idea di dire ma perché non cambiamo una sola lettera e quindi siccome noi ci interessiamo di api, La Fornape è venuto fuori in questo modo che è un nome abbastanza grazioso, un gioco di parole e anche il nostro simbolo rifà alla ciminiera e con un'api ridente, quindi se vedete il nostro logo sulla locandina della Civil Week è proprio una specie di fornace, una caricatura sorridente perché in effetti per noi il mondo delle api è un sorriso, è un grande amore quello che noi abbiamo nei confronti delle api anche se ci pungono, anche se ci attaccano, anche se fanno di tutto e più però... E' sempre colpa nostra, vuol dire che facciamo sempre qualcosa che a loro non piace, perché per il resto sono animali assolutamente innocui. E l'associazione La Fornape, cosa ha organizzato per questa Civil Week del 2024? Allora, noi abbiamo organizzato due punti in effetti, un punto dove c'erano delle locandine, dove c'era tutta una descrizione delle api, come era formata, come la famiglia, quindi api regina, api operaie e fuco e quello che succede nell'ambito della famiglia, quindi i lavori che fanno le api operaie da quando nascono al ventesimo giorno, dopodiché dal ventunesimo giorno loro cominciano a fare il lavoro vero e proprio che è l'ape bottinatrice, quindi che va a cercare il cibo da riportare dentro nell'alveare. Quindi c'erano queste locandine dove Daniele, bravissimo perché ha un modo di relazionarsi sia con i bambini che con gli adulti, che è fantastico, e li ha intrattenuti facendo domande, cercando di interessare proprio a cos'è questo mondo. E poi la cosa importante è far capire la differenza fra un'ape e una vespa, perché spesso e volentieri le persone vedono un'ape e dicono ah è un'ape, no è una vespa, e quindi le vespe pungono proprio perché così invece l'ape punge solo per difesa e nient'altro. Sì, lo scopo di questa presentazione breve, senza fare il pippone tecnologico, era semplicemente quello per i bambini, soprattutto avvicinarli a scoprire questo mondo, a riuscire a definire o a riconoscere un'ape da una vespa, potrebbe esserci anche un calabrone, e anche alcune tipologie di api che sono i bombi, non so se li avete mai visti, sono quelle api un po' cicciottone, molto colorate, nere bianche, nere rosse, nere gialle, che anche loro sono degli animali impollinatori, cioè degli insetti impollinatori. Quindi far capire quello, un po' la vita delle api fino ad arrivare a diventare delle bottinatrici, perché molte appena nascono, la prima cosa che fanno, si puliscono la cella da dove sono nate, poi cominciano ad alimentare le larve più piccole, diventano le ancelle della regina, ci sono le api necrofore, ci sono le api ceraioli, insomma c'è tutta una varietà fino a diventare bottinatrice, cioè quelle che noi vediamo in giro, quelle che incontriamo in giro sono le api bottinatrici, che sono quelle che vanno a cercare il cibo, quindi il nettare e il polline per alimentare la famiglia. Ora ci troviamo di fronte alle arnie e stiamo vedendo il volo delle api. Sì, il volo delle api che stanno ritornando, sono le api bottinatrici, ma ci sono anche le api di casa che eventualmente escono per fare i propri bisogni, perché è una delle cose che loro non fanno all'interno, non fanno i bisogni. E quindi sono molto pulite, questo è molto importante dal punto di vista igienico della famiglia. Quindi questo svolazzamento, adesso siamo verso la fine della giornata, porterà poi le api a rientrare tutte nell'alveare. E come si pongono i bambini di fronte a queste iniziative di conoscere il mondo delle api? Sono spaventati oppure accolgono con piacere la scoperta? Ti devo dire che i bambini sono fantastici, perché in effetti ormai sono sollecitati da tutte le parti, nel senso che le maestre proprio spiegano, fanno fare disegni, li fanno vedere dei video. Tante volte quando facciamo la didattica con i bambini, proprio vediamo che sono quasi più preparati loro di noi. E poi sono anime pure che comunque li vedono come degli esseri assolutamente necessari. E quindi è molto positiva questa cosa, che ormai la sentono proprio bella come situazione. Sì, questo è uno scopo anche della nostra associazione, è quello di andare a divulgare e portare il verbo delle api all'interno della comunità fondamentale. Api che sono proprio fondamentali. Sono fondamentali per la nostra alimentazione, tenete conto che non solo le api, ma tutti gli insetti impollinatori impollinano più del 70-75% di tutte le infioriture che poi portano i frutti e che poi noi mangiamo. Quindi oltre il 35% si tramutano poi dopo in frutti, in alimenti che noi senza le api è stato calcolato che l'umanità, se dovessero scomparire le api immediatamente, l'umanità avrebbe 4-5 anni di sopravvivenza, non di più. Ci sono tecniche che si stanno implementando, di tecniche di impollinazione artificiale, manuale, eccetera, però non sarà mai come, non è la stessa identica cosa, insomma. Noi vi ringraziamo tantissimo per il vostro lavoro, per le interviste e auguriamo a tutti una buona Civil Week. Grazie.